Una buona serata dagli studi di ETV Marche, ben ritrovati all'edizione sportiva del nostro telegiornale che come di consueto potete seguire sul canale 12 del Digitale Terrestre e poi naturalmente anche sulla nostra app che si scarica per smartphone e per tablet in maniera gratuita e poi sul nostro sito www.etvomarche.it L'edizione del venerdì dunque quella legata ai tabellini, andiamo a vedere quali sono gli appuntamenti che attendono le formazioni marchigiane in campo in questo fine settimana a partire dalla Serie B e dall'Ascoli che sarà di scena in questo caso domenica contro il Bari in una partita molto tosta al Del Duca in programma alle ore 16 e 15. Ci proietta a questo match l'ultimo arrivato in casa bianconera Valzania, sentiamo. Sono contento di essere qua, c'è stato un interesse molto forte da parte sia del direttore che del mister nei miei confronti e per me questo è stato l'ago della bilancia perché vengo comunque da un periodo di inattività a partire dall'infortunio e comunque gli ultimi mesi a Cremona in cui praticamente ne ho giocato pochissimo. Quindi sotto questo punto di vista mi ha fatto veramente tanto piacere della loro stima, della loro fiducia nei miei confronti. È stata una partita a Parma, secondo me ha fatto un'ottima gara, potevamo magari nel momento in cui siamo passati in vantaggio cercare magari di gestirla in maniera diversa per non prendere gol. Però comunque è un buon punto, è un punto secondo me da cui dobbiamo partire, un punto che ci dà morale perché comunque sia fare punti a Parma contro la prima in classifica che è una delle pretendenti al salto di categoria. Quindi penso che abbiamo messo un po' le basi per questo giro di ritorno. Penso che abbia bisogno di mettere su condizione perché comunque sia come ho detto prima a livello di nei mesi passati sono stati un po' difficili, un po' particolari per me. Quindi la prima cosa che mi interessa è mettere su condizione per essere in grado poi di aiutare nel modo migliore che possa la squadra. Io quando sono arrivato qua tutti mi hanno accolto molto bene a partire dalla società, dal mister, ma soprattutto i compagni. Quindi ho avuto la possibilità già nell'arco di una settimana di integrarmi subito. E questo penso che per noi giocatori sia molto importante perché così entri subito nella squadra, entri subito nell'idea che ha la squadra sia da parte del mister e delle sue idee. Quindi sotto questo punto di vista sono molto contento. È normale che penso di essere un giocatore importante per questa categoria e penso di poter dare una mano a questa squadra comunque a raggiungere l'obiettivo di salvarci. Come ho detto prima ho bisogno magari di qualche partita per mettere su ancora più condizioni per essere poi in grado di mettere in luce magari tutte le mie caratteristiche. Questo è l'obiettivo che mi sono posto e spero nell'arco di questo giro di ritorno di poter dare una mano più possibile. Dalla serie B passiamo alla serie C. Andiamo a vedere quale sarà il programma del fine settimana per le quattro formazioni marchigiane impegnate nel raggruppamento B appunto. Con la Re Canatese di Scena domani contro la Lucchese appuntamento alle 18.30. Mentre la Vispesaro in questo caso domenica alle 18.30 affronterà la Carrarese. La Fermana e l'Ancona invece giocheranno rispettivamente contro il Gubbio. I Canarini alle 20.45 domenica sera mentre i Dorici faranno visita al Pineto sempre in notturna. Parliamo però di Re Canatese con le parole di uno dei senatori della serie C. Ricci. Significa che lo sto invecchiando però parte di scherzi è sicuramente un bel traguardo personale per il quale comunque voglio ringraziare le tantissime persone che ho incontrato nel mio cammino perché da soli non si fa nulla. Ci ho messo del mio perché comunque penso ogni giorno di aver trasmesso e di averci messo passione e professionalità e sono contento. Però ovviamente sto ancora bene, sono in campo quindi da domani partono nuovi traguardi che spero di raggiungere però mi fa veramente piacere questo riconoscimento. È un momento delicato nel senso che è un momento importante della stagione per tutte le squadre e anche per noi. Secondo me da un punto di vista esterno può sembrare che stiamo attraversando un momento di difficoltà, non è così perché secondo me abbiamo comunque affrontato nell'ultimo mese, mese e mezzo le compagini più forti del girone e ce la siamo sempre giocata. Siamo usciti a testa altissima dall'ultimo match fuori di Ventus, siamo rimasti in 10-50 minuti, potevamo forse vincerle. Quindi il piccolo rammarico che abbiamo secondo me ci fa capire che siamo sulla strada giusta. È normale che da domenica tutte le partite avranno un altro peso, ma come per tutte le squadre andiamo a Lucca, campo difficile, ma come abbiamo sempre fatto sono sicuro che daremo del filo da torcere a tutte le squadre. Oggettivamente nel giorno d'andata quando sono muti a Recanati è la squadra che più mi ha impressionato, non mi aspettavo di vederla in quella situazione di classifica, hanno giocatori esperti, importanti, hanno molte frecce nell'arco, soprattutto nella fase offensiva. Quindi è una squadra da prendere con le molle, chiaro che dovremo anche noi infilarci nei problemi tra virgolette ambientali di classifica perché è una piazza importante, quindi quando si gioca in certi stadi l'arma è a doppio taglio e sta a noi, noi dobbiamo essere noi, c'è una squadra che sa giocare a calcio, che sa affrontare le partite, ci dobbiamo mettere in testa sicuramente il discorso che i punti vanno portati a casa perché più in alto stiamo e più serene in linea. Serie D il Girone F, andiamo a vedere qual è il quadro del prossimo turno, l'Atletico Ascoli di scena contro il Campobasso, la Vigor Senigallia in trasferta contro il Matese, quindi ancora la San Beneretese in casa contro l'Avezzano, il Fano in trasferta contro il Riccione, mentre la Forza Empronese farà visita al vasto Girardi. Parliamo di Vigor però in maniera approfondita con le parole del difensore Magi Galluzzi. È stata una partita sicuramente molto difficile perché veniva anche a Senigallia una squadra giovane, ma di gamba, che ha corso tanto, ha provato a imporre il proprio gioco come facciamo noi. È stata una partita tosta in cui secondo me abbiamo fatto molto bene dal punto di vista del nostro gioco, siamo riusciti a proporre le nostre idee, ma come hai detto tu è mancato la davanti, non la davanti. In zona gol comunque forse un po' di precisione, non dettata dall'assenza di qualcuno, ma dalla bravura secondo me anche dei difensori avversari. Per me ci può stare una giornata in cui non si riesce a fare gol, speriamo che nelle prossime giornate quello che ci è mancato, che non siamo riusciti a conquistare la scorsa partita, ci venga dato indietro. Bisogna sempre vedere il bicchiere mezzo pieno, secondo me. Infatti il sesto risultato utile è comunque un fattore positivo e naturalmente proveremo domenica a conquistare i tre punti come tutte le domeniche. È una partita da non sottovalutare, nonostante magari la posizione in classifica della Matese, perché andiamo in un campo ostico in cui abbiamo l'anno scorso pareggiato 0-0, un campo difficile dove è difficile giocare, il sintetico non è nuovissimo e ci sono molti tifosi che comunque sostengono la squadra e sperando che anche i nostri, nonostante la lunga trasferta, ci vengano a dare una mano. Questi gli auspici di Maggi Galluzzi, ora parliamo di eccellenza. Il tabellino del prossimo turno con Castelfidardo Tolentino, uno dei match in programma nella prossima giornata. Chiesa Nuova Civitanovese, Jesina K Sport Montecchio, quindi Urbino contro Atletico Azzurracolli, Maceratese Urbania, Montefano, San Giustese, Valdichianti Ponte, Monturano Campiglione contro Montegranaro e infine Osimana contro Montegiorgio. Questo per quanto riguarda il torneo di eccellenza, il massimo torneo regionale. Dal calcio ci trasferiamo al basket per vedere dove sarà impegnata la formazione pesarese della VL, in questo caso in casa, domenica alle ore 18.30 contro l'Olimpia Milano. Dunque una partita di cartello in programma proprio a Pesaro, che in questi giorni si prepara, in particolare domani, ad inaugurare il suo anno di Capitale della Cultura. Partita appunto tra AVL e Milano in programma domenica alle 18.30. Ora invece il volley con la Superlega e questo appuntamento che attende la Lube domenica alle ore 18.00 in casa a Civitanova contro il Power Volley, anche in questo caso formazione milanese, altra avversaria complessa da fronteggiare, ma contro la quale ovviamente la formazione cuciniera metterà in campo tutto a se stessa per cercare di vincere. Ci restano da vedere le due formazioni marchigiane di A1 e di A2 femminile, in particolare la Megabox Vallefoglia, che domani alle 20.30 sarà in trasferta contro Pinerolo, mentre invece la Balducci in Serie A2 sarà in trasferta domenica alle 17.00 contro l'Olbia. E questa era anche la nostra ultima notizia, ma vi ricordo che anche tutte le news sportive le trovate sempre pubblicate e aggiornate sui nostri social e sul nostro sito. Grazie per l'attenzione, l'augurio di una buona serata in compagnia dei nostri programmi. Arrivederci!